Oggi è una giornata molto importante per l'azienda ospedaliera Marche Nord e per l'ospedale di Fano perché praticamente andiamo a inaugurare, a rappresentare quello che è il percorso donna, percorso rosa grazie alla ristrutturazione del nuovo reparto di ostetricia e ginecologia dotato di tutti i comfort con un nuovo nido, con le nuove sale parte travaglio oltre che con nuove stanze di degenza. A fianco a questo oggi presenteremo il nuovo responsabile dell'unità operativa Senologia Breast Unit dottor Cesare Magalotti, allievo del professor Veronesi. Ringrazio il presidente della regione, dottor Ceriscioli, la dottoressa Capalbo per avermi dato la possibilità di arrivare a Fano, nell'ospedale di Fano ha istituito un'unità di senologia, stiamo lavorando in piena attività da un mese e mezzo abbiamo eseguito 85 interventi chirurgici di cui 72 per tumore alla mammella abbiamo mobilità da fuori regione circa del 50%, tutto sta procedendo nel miglior modo io sono molto felice, tutto procede come volevo. L'inaugurazione importante alla Santa Croce, in attesa ovviamente di andare tutti nei prossimi anni in un'unica casa, si continua ad investire questo è un fatto molto significativo anche da spiegare gli ospedali sono macchine a ciclo continuo, devono offrire prestazioni ai massimi livelli non è possibile pensare di lasciare strutture che non siano il top quindi si continuano a fare investimenti oltre un milione per quanto riguarda la riqualificazione dell'ostetricia e ginecologia anche sapendo che fra qualche anno andremo in una casa nuova perché dobbiamo sempre offrire ai cittadini il massimo poi andiamo su livelli di alto profilo come quello della Breast Unit ovvero l'intervento per il tumore al seno è già operativa a struttura complessa quindi significa mettere in questa struttura uno dei servizi di maggior qualità che si offrino a livello regionale su questa materia accompagnato da tecnologie grazie agli investimenti fatti dalla Regione e grazie agli investimenti offerti dalla Fondazione Cassa di Risparmio che accompagnano queste scelte potendo offrire ai pazienti in massimo dal punto di vista tecnologico